La palla a volo, la trasferta latina dei ragazzi del presidente Sirci che domani alle 20.30 affronteranno i padroni di casa, poco lo spazio per errori e passi falsi, gli avversari infatti sono agguerriti, cercano un posto nei play-off e tra l'altro questa sarà la prima gara di una settimana intensissima, i Block Devils saranno a Milano mercoledì e poi domenica al Palevangelisti quando arriverà a Verona. Perugia è dunque chiamata a raccogliere il massimo in queste tre gare e con il miglior piazzamento possibile truffarsi nei play-off Scudetto. L'obiettivo per Bernardi e i suoi ragazzi è il secondo posto.